Buongiorno, questo è un tutorial introduttivo all'utilizzo dell'attività quiz. Il modulo di attività quiz consente ai docenti di creare questionari con diversi tipi di domande. Per esempio si possono creare domande a scelta multipla, vero-falso, domande per identificazione di una corrispondenza tra due concetti, si può richiedere una risposta breve, si può richiedere il componimento di un piccolo testo o di allegare un file e moltissime altre. Ogni docente può impostare il quiz in modo tale che sia possibile tentarlo più volte, laddove l'ordine delle domande verrà cambiato in modo casuale ed è anche possibile impostare un tempo massimo per lo svolgimento della prova. Ogni tentativo viene valutato in maniera automatica, ad eccezione di alcune domande come per esempio la valutazione di un componimento e la valutazione viene memorizzata nel registro dei valutatori. Il docente poi può decidere quando e come far vedere agli studenti le risposte corrette ed eventualmente dar loro dei feedback e dei suggerimenti per lo studio. In definitiva il quiz è un valido strumento che può essere utilizzato in alternativa al servizio di lettura ottica per lo svolgimento degli esami, ma è uno strumento molto potente che può essere utilizzato per creare delle vere e proprie prove ad hoc o per gli studenti, quindi può essere utilizzato per le valutazioni d'esame dei corsi, si può utilizzare per creare dei brevi test, per esempio su dispense o per verificare che gli studenti abbiano studiato un determinato argomento, può essere utilizzato per fare pratica rispetto agli esami, per esempio utilizzando delle domande di esami precedenti, può essere utilizzato poi dagli studenti per avere una autovalutazione della propria preparazione. Si tratta di uno strumento complesso e che ha notevoli potenzialità e che cercheremo di esplorare attraverso una serie di tutorial.